Un colpo di scena incredibile l'inchiesta Fonsai scava e fa finire agli arresti l'intera famiglia Ligresti, Salvatore e i domiciliari Giulia e Lionella in carcere, Paolo Ligresti che risulta ricercato e dalla Svizzera dice di non essere intenzionato a rientrare, a portare a termine l'operazione la Guardia di Finanza di Torino con i familiari Ligresti anche gli ex amministratori delegati di Fonsai Fausto Marchioni ed Emanuele Erbet e l'ex vicepresidente Antonio Talarico. Le ipotesi sono di falso in bilancio, aggravato e manipolazione del mercato per i componenti della famiglia Ligresti e per le altre persone arrestate, il reato contestato è quello di false comunicazioni sociali, uno scenario che gli inquirenti definiscono uno spaccato inquietante. Una società assicurativa hanno spiegato molto importante, era piegata agli interessi di una parte dell'azionariato. Quello che contava i Ligresti attraverso Premafin detenevano oltre il 30% della società, il tutto secondo l'accusa per incassare indebitamente 253 milioni di euro. La somma di denaro che la holding della famiglia Ligresti e Premafin hanno trattenuto come utili al posto di registrare perdite, ma il buco potrebbe raggiungere gli 800 milioni. I finanzieri hanno infatti verificato come fosse stato allestito un sistema che consentiva una sistematica sottovalutazione delle riserve tecniche del gruppo assicurativo della riserva di sinistri. Operazione che ha consentito nell'arco degli anni l'afflusso di milioni di euro nelle casse della famiglia. La famiglia Ligresti si sarebbe assicurata anche un costante afflusso dei dividendi grazie alla compiacenza dei top manager, oltre che il via libera numerose operazioni immobiliari con parti correlate. La misura dell'arresto è stata decisa viste le concrete possibilità di fuga secondo i PM, oltre che per possibile inquinamento di prove. Il pericolo di fuga per Paolo Giulia e Lionella sarebbe dimostrato dal recente perlievo di circa 14 milioni da tre società lussemburghesi che fanno loro capo. Secondo il giudice il pericolo è desumibile dal possedere ciascuno di loro ingenti patrimonio in grado di fornire mezzi necessari per lasciare il territorio nazionale e spostare il centro delle proprie attività in altri paesi al fine di eludere gli esiti delle indagini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.